Eccomi al centro benessere al lago di Levico Terme, l'unico in Trentino ad offrire da tutte le saune una suggestiva vista sul lago. Trovate la baita con sauna finlandese, la bio sauna alle essenze, la sauna ad infrarossi, il bagno turco, la grotta del freddo, la piscina interna con il collegamento all'esterno, insomma il lago è un luogo ideato per i vostri momenti dedicati alle coccole. Novità assoluta 2011 per i piccoli ospiti dai 5 ai 16 anni, nuovi pacchetti Princess Dream e Pretty Girl per far sentire le vostre bimbe come nelle fiamme. Grazie a tutti.